Alla bufera che si è scatenata attorno alla clinica Santa Chiara di Locarno si aggiunge un nuovo capitolo che potrebbe segnare la vera svolta. Ma andiamo con ordine. La clinica, in risposta ai ritardi nei rimborsi per le spese supplementari sostenute dall'inizio della pandemia, ha deciso di adottare misure drastiche per il contenimento dei costi, in primis la sospensione di una decina di infermieri in formazione. Una decisione che ha sconcertato il direttore del DSS, Raffaele De Rosa, e irritato non poco il consigliere di Stato, Manuele Bertoli, che ha parlato di un vergognoso ricatto. Il caso ha anche fatto scattare un'interpellanza del deputato socialista Raul Ghisletta, che chiede al governo di intervenire al più presto per evitare il tracollo con conseguenti licenziamenti. Con una lettera aperta, pubblicata ieri dalla Regione, poi, si sono mossi anche quattro medici azionisti del Santa Chiara, che pur confermando la grave crisi finanziaria a un passo dal deposito dei bilanci, si distanziano in modo fermo dal modo di procedere della direzione. Gli stessi medici stanno attivamente cercando una soluzione che dia continuità professionale agli oltre 200 dipendenti. E la soluzione potrebbe essere davvero dietro l'angolo. Swiss Medical Network, infatti, già presente in Ticino con le cliniche Sant'Anna e Arsmedica, sarebbe pronta a tendere la mano alla Santa Chiara e a riprendere l'attività. L'amministratore delegato, Antoine Hubert. Sicuramente per noi avere qualcosa nel sopraceneri sarebbe molto interessante. Siamo pronti a rilevarla se fosse una possibilità. Qualche medici ci hanno chiamato e abbiamo confermato che noi siamo pronti. Siamo pronti se c'è bisogno, ma non ci sono nessuna per ora trattativa ufficiale. Ma posso confermare che se la clinica Sant'Anna lo desidera, noi siamo pronti. Nessuna trattativa ufficiale ancora, ma un interesse molto serio. L'intenzione del gruppo, qualora venisse trovato un accordo, sarebbe quella di procedere con una ristrutturazione dello stabile, anche se al primo posto viene il capitale umano. Quello che è interessante sono la gente, i medici, le cure, tutti i dipendenti che sono nella clinica. Magari la clinica Santa Chiara ha bisogno di un po' di rifrescamento perché è un palazzo abbastanza vecchio, ma è una clinica che funziona, che serve la popolazione di Locarno e della regione e dunque noi valutiamo quello molto, sì. Nel frattempo le cliniche Sant'Anna e Arsmedica hanno assunto 4 dei 10 infermieri in formazione lasciati a casa dalla Santa Chiara. Più in generale, l'amministratore delegato di Swiss Medical Network, Antoine Hubert, vede molto difficile un futuro della clinica in solitaria. Ogni anni diventerà più difficile di essere un ospedale o una clinica da solo. Si deve lavorare in retta, si deve distribuire un po' le competenze e dunque io non penso che sola una tale clinica ha l'opportunità di sopravvivere. Al medio o lungo termo non si può sopravvivere così. Insomma, un serio interessato c'è, anche se potrebbe non essere l'unico. La clinica Moncucco, per esempio, che al momento non esprime un reale interesse ma potrebbe entrare in gioco se la situazione lo richiederà. Invece c'è chi da tempo sta cercando di mettere una base in Ticino. Il gruppo Hearslanden, che conta ben 17 cliniche in Svizzera e non ha mai nascosto le sue ambizioni verso il sud delle Alpi.